I documenti sanitari trovati nell'ultimo covo del BOS, Matteo Messina Denaro, stanno aiutando gli investigatori a ricostruire almeno gli ultimi periodi della sua lunghissima latitanza. Nell'appartamento di Vicolo San Vito, a Campobello di Mazzara, sono stati scoperti decine di referti, fatture e prescrizioni mediche relative a diverse patologie che risalgono a prima del 2020, anno in cui si sa con certezza che il BOS si è trasferito nel centro del Trapanese e si è fatto operare di cancro al colon all'ospedale di Mazzara del Vallo. I documenti sono stati rilasciati da diversi professionisti, tra i quali alcuni di Marsala e di Trapani. Nei medici il BOS lasciava il numero di cellulare come contatto e proprio seguendo i telefonini i magistrati stanno cercando di ricostruire le mosse e i rapporti del capo mafia. Si tratterebbe di sim diverse da quelle trovate nel covo di Campobello. Le celle telefoniche agganciate guideranno gli investigatori ai luoghi frequentati da Messina Denaro, mentre i tabulati saranno utili a ricostruire la sua rete di contatti. Dopo l'arresto del medico Alfonso Tumbarello per concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico proseguono intanto le indagini per risalire al professionista che per primo ha diagnosticato al BOS il tumore. Dall'analisi dell'enorme documentazione sanitaria trovata nel covo di Vicolo San Vito non è finora emersa la diagnosi, conoscopia inclusa, che ha dato il via al percorso terapeutico di Messina Denaro a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Scoprire il nome del medico significherebbe svelare un tassello importante della rete di Messina Denaro, i cui spostamenti vengono mappati grazie ai cellulari.